Bene amici, possiamo dire buona la seconda, sì perché chiusa la partita di Anticipi Ferragostani ecco che Inps ci conferma un nuovo piano Anticipi, un bis anche per questa seconda parte, questa coda di agosto. Segnatevi il 25 perché lo vedrete tra poco, arriva tutto e di tutto con novità Inps, me il dirigente e una super chicca finale, mi direte nei commenti. Io sono Mr. Lul, partiamo immediatamente, prima mi raccomando un bel like e a brevissimo cedolini delle pensioni, ovviamente di settembre, attivate la campanella così vi avviso che appena escono e pagamenti previsti per l'1 settembre. Poi mille mila nuove date ufficiali per l'assegno unico figli, competenza agosto su domanda 17, 18, 21, 22 e giusto appunto 25. Man mano escono a tutti, so che tanti ancora non vedete la data nel fascicolo ma a breve esce. Bonus figli disabili, nuclei monoparentali, 22, 25, tanti però lo so siete ancora fermi al palo per mancanza di fondi. Nuove date che escono anche per la Naspi e il suo trattamento integrativo bonus 100 euro, 23 e 25. Mi permetto una piccola parentesi sul bonus 150 euro agosto, come abbiamo già spiegato non c'è alcun nuovo bonus, i 150 sono dello scorso anno del governo Draghi, questa non è un'opinione, la realtà non esiste quindi alcun nuovo aiuto anti-inflazione, al massimo potrebbero arrivare degli arretrati per chi fosse ancora in attesa. Quello che arriva però sicuramente è il trimestre anti-inflazione con nuovi, tra enormi virgolette, bonus sulla spesa, cioè sconti diretti sui prodotti e non più soldi su una card. Recuperate questo video dove spiego tutto. Continuano anche ad uscire i rimborsi 7,30 con sostituto IMSS evidentemente per, indovinate, nuova data, per il 25. Ma eccoci al reddito e pensione di cittadinanza. Super anticipo di metà mese è arrivato con anche i suoi arretrati di assegno unico figli e siamo pronti per l'anticipo bis, meno super, di fine mese. Stando a quanto ci viene detto, la volontà di IMSS è quella di anticipare le lavorazioni al 23 con disposizioni, quindi per le ricariche, il 25. La vera ufficialità però è certezza, l'avremo solo con le lavorazioni. Dunque calma e attivate la campanella che vi avviso appena partiranno. E poi assegno unico su RDC atteso per il 28, lavorazioni e pagamenti presumibilmente lo stesso giorno. Arriveranno sicuramente anche altri almeno 80.000 SMS di sospensione per i percettori di RDC che andranno a raggiungere la settima ricarica con agosto. Ovviamente parliamo dei nuclei occupabili. Ma veniamo a novità e chicche, IMSS governo a braccetto. Flop del salario minimo, reddito minimo, incontro inutile come temevo e come vi avevo annunciato. Ma attenzione perché IMSS ha appena pubblicato un super focus, un librone, con tutto quello, ma proprio tutto quello che dobbiamo sapere sui nuovi prossimi aiuti in partenza. L'assegno di inclusione, sostituto di RDC, e il SFL, strumento formazione lavoro. Anche qui attivate la campanella perché faremo un approfondimento. E in ultimo, governo in crisi sulla tassazione degli extra profitti delle banche. Da rivedere a settembre, secondo Forza Italia. In caso di una rivisitazione e di una riduzione delle entrate nelle casse dello Stato, evidentemente ci saranno anche meno soldi a disposizione per i più fragili nella prossima manovra di bilancio 2024. Incrociamo le dita e speriamo che si faccia qualcosa di serio. Detto questo, spero che la rassegna sia stata utile. Se avete dubbi vi aspetto qui sotto nei commenti. Un abbraccio, alla prossima, da Mr. Lull.